Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 marzo, disperata per Damiano, Otello se ne va. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse nella settimana dal 13 al 17 marzo 2023, rivelano che Viola si ritroverà a vivere un momento di grande disperazione. La donna, infatti, verrà informata delle terribili condizioni di salute in cui versa Damiano che si ritroverà in serio pericolo di vita dopo un raid della polizia. Spazio anche alle vicende di Otello che, in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 3, deciderà di lasciare nuovamente la sua amata Napoli. Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 marzo 2023, rivelano che Viola verrà scossa da una terribile notizia che riguarda Damiano. Il poliziotto è rimasto gravemente ferito in un raid e la polizia e le sue condizioni di salute non sono affatto incoraggianti. Il quadro medico dell'uomo desteranno un poche preoccupazioni, al punto che Viola apparirà disperata e provata dalla situazione. Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui la figlia di Ornella deciderà di uscire allo scoperto e, complice la delicata situazione che sta vivendo Damiano, deciderà di confessare i sentimenti che prova nei suoi confronti. Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 17 marzo 2023 rivelano che Viola si lascerà andare alla verità e confesserà a suo marito Eugenio di non amarlo più. Perché ha capito di provare dei sentimenti forti nei confronti di Damiano. Tale confessione finirà per spezzare Eugenio e, nel corso delle prossime puntate della soap opera, non passerà inosservata la reazione dell'uomo. E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 17 marzo 2023 rivelano che Otello continuerà a vivere con grande sofferenza il lutto che lo ha colpito ed è stabilizzato. La morte di Teresa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell'ex vigile urbano, il quale si ritroverà a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita. E a spezzare sarà la scelta finale dell'uomo, infatti, Otello comunicherà ai suoi familiari di voler andare via da Napoli. Ha intenzione di ritornare di nuovo ad Indica, la città dove ha vissuto con la sua amata Teresa nel corso degli ultimi tempi. Per viversi in solitudine questo difficile momento. Di conseguenza, si assisterà all'addio di Otello ma non si esclude che, nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, i suoi amici possono convincerlo a ritornare di nuovo a Napoli, così da non stare da solo. Occhi puntati anche su Manuela, nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera. La ragazza si renderà conto di non aver ancora dimenticato Nico e di provare ancora qualcosa di forte nei suoi confronti. Nonostante sia passato un po' di tempo dalla loro rottura. Nonostante sia passato un po' di tempo, nonostante sia passato un po' di tempo che ne suss, che ne suss, che ne suss, che ne suss, perché o se sa a puntenuto.